Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Sembra che il guitto Zelensky, il guitto dei guitti, attore nato con la N maiuscola prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, sia sempre più solo e abbandonato. Era al centro di una commedia che lo vedeva protagonista, una commedia scritta a Washington dal febbraio 2022, non si parlava che di lui, era continuamente sotto i riflettori, sembrava il nuovo eroe che doveva in qualche modo compiere una missione per il bene dell'umanità e adesso all'improvviso si sono spenti i riflettori e nessuno parla più di lui, anzi sembra caduto in disgrazia, sembra perdere consensi anche, sembra essere trascurato perfino dalla amata Washington, amata da lui si intende. Ecco, questa sembra essere la situazione generale, si potrebbe commentare con il sempre valido detto Sic transit gloria mundi, posto che nel caso del guitto Zelensky si possa anche solo pensare, per sbaglio, di abbinare la parola gloria alle sue vicende. In ogni caso sembra davvero che il guitto Zelensky sia sempre più solo e abbandonato. Mi verrebbe da citare lo Hegel e l'immagine dello spirito del mondo che abbandona con la sua astuzia gli eroi come Giulio Cesare o Napoleone, ma non mi sogno nemmeno lontanamente di accostare il guitto dei guitti a questi eroi cosmico storici come li chiamava Hegel.